E' arrivato il giorno dopo aver rimandato due o tre volte, è arrivato veramente il giorno di andarsene da questo spot meraviglioso, purtroppo dobbiamo tornare a Cancun a sistemare il computer eh già ragazzi si è rotto il computer e dopo aver aspettato una settimana adesso andiamo a riparare adesso torneremo alla punta sud perché purtroppo avevamo fatto delle riprese ma le abbiamo perse quindi andiamo a dare il saluto alla punta sud e diamo il saluto al nostro posto che ci ha ospitato Siamo qui a Punta Sur, siamo ritornati perché abbiamo perso le registrazioni a causa della rottura del computer e anche per farci una passeggiata perché è bellissimo e soprattutto perché non c'è vento quindi magari l'audio sarà un po' meglio Siamo davanti alla dea dell'isola Ischel, spero di averlo pronunciato giusto è la dea dell'arcobaleno, dell'acqua, della fertilità, della fondanza, della luna, dell'amore e della medicina quindi un po' di tutto Allora ecco qui c'è scritto tutto, qui c'è l'elenco e questa signora qui che è una dea diciamo che ne sa Infatti quest'isola si chiama Isola delle Donne perché quando arrivarono gli spagnoli intorno al 1500 trovarono tantissime statuette di donne perché rappresentavano appunto questa dea e tutte le donne le portavano in regalo a lei Allora l'iguana più grande è qui appunto a Sud Infatti ne abbiamo viste veramente a centinaia soprattutto in quest'isola Ve ne abbiamo fatti vedere, ci abbiamo anche vissuto e convissuto qualcuno stava pure per entrare nel van Questa è la vista più bella dell'isola e capirete perché subito Sì 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 c'è un mare impressionante Sullo sfondo si vede Cancun quindi siamo molto vicini Poi oggi la giornata è molto limpida quindi si vede molto bene กla Mettere Poi Poi no ma adesso giro la telecamera ma che colori ci sono una piscina carlo si è buttato ora tocca a me il mare è spettacolare mi butto è una piscina una piscina gigante mamma mia che acqua wow che bagno uno dei più belli ci siamo rimessi in cammino ci manca l'ultima spiaggia vero facciamo gli ultimi bagni e poi si parte forse io non è che c'ho tutta sta voglia di lasciare l'isola però ci tocca ci tocca sono le nostre ultime ore a isla mueres e le ultime ore le concludiamo qui a playa centro che è una spiaggia che era chiusa quindi i primi giorni non siamo riusciti a vederla e c'è un mare che anche qua sembra una piscina spettacolare l'abbiamo detto tante volte ma è veramente bellissimo l'ultimo bagno fatto sono l'ultimo bagno adesso andiamo a prendere la nave delle due e mezza e torniamo a cancun questa volta non faremo l'errore dell'altra volta di rimanere chiusi nel van perché fa molto 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 più caldo e non vogliamo rimanere intrappolati andiamo buona buona stardo si sale ragazzi addio isola ciao isola grazie per questi giorni basta che si può uscire si no diciamoglielo questa volta siamo riusciti ad uscire con fortuna andiamo a goderci il panorama lasciamo il van qui insieme agli altri suoi compari e andiamo tra l'altro c'è anche il vano dove entrano le auto nei sotterranei della nave ma voi un porto così l'avete mai visto? ma basta cavoli che acqua ma cosa vuole? si vuoi? va 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 Grazie a tutti. Ci siamo, siamo quasi arrivati a Cancun. Stavamo alzando e c'è questo uccellino qui sul palo della luce. Bene, siamo sul ponte, andiamo a recuperare Nirvans. Come facciamo ad entrare? Vai, siete. No. 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 No.